Dicci come è andato l'esame Di merda Perché? Perché il signorino mi ha controllato il nome grazie a questo stronzo che mi ha toccato i capelli alla mia esame È lui lo stronzo, è lui Quindi sei l'unica che hanno beccato a copiare Certo, come sempre Come informatica grazie a quello stronzo di Filippo Casto